Piantala con la violenza sulle donne, è l'iniziativa promossa dal Corpo Gab contro la violenza. La manifestazione svolta presso il complesso La Salle ha visto la piantumazione di due alberi di mimose e numerosi fiori per tutte le donne vittime di violenza. I fiori ai piedi di una statua raffigurante la Vergine Maria ritrovata nei rifiuti dal presidente onorario del Corpo Gab, che è stata prima restaurata e poi posta nei pressi della tendostruttura. In occasione della giornata internazionale della donna abbiamo voluto dare un segnale, qualcosa di prettamente simbolico, piantando delle piantine per abbellire il ritrovamento di questa madonnina che è stata trovata qualche tempo fa dal nostro presidente onorario, Salvatore De Chiara, tra i rifiuti ed è stata restaurata per volontà dell'associazione Corpo Gab dal Maestro Fortunato. E in questa occasione, essendo che la nostra associazione di volontariato si occupa di violenza e contro la violenza in genere, si occupa quindi di tematiche ambientali ed animali, ma non soltanto abbiamo deciso quindi di occuparci, di fare questo gesto simbolico in occasione della giornata internazionale della donna, quindi contro la violenza in generale. Un periodo storico forte, ma al contempo delicato, che non deve però distogliere la nostra attenzione dal ricordare eventi quali la giornata della donna. Non dobbiamo far sì che il periodo brutto, bruttissimo, storico che stiamo vivendo oscuri poi tutto il resto, tutte le altre manifestazioni che non devono essere, chiaramente anche soltanto virtuali, che non devono essere assolutamente tralasciate. Anzi, oggi più che mai la violenza è ancora presente, specialmente in questo periodo e coinvolge un po' tutte le fasce d'età, non soltanto il genere femminile purtroppo.